Buonasera, possiamo parlare italiano? Sì, benissimo. Grazie. Allora, intanto benvenuti all'Istituto Italiano di Cultura, a coloro che non lo conoscono. Questo istituto è qui dalla fine, non in questo edificio, ma è in Canada, dal 1976. Siamo qua in questo edificio invece dagli anni 80. È uno degli 85 istituti italiani di cultura al mondo e ha lo scopo di promuovere la lingua e la cultura italiana. Noi siamo parte della struttura del Ministero degli Esteri. Il Ministero degli Esteri è stato molto attento allo spettacolo che stasera presentiamo, in atteprima, lo spettacolo magazzino 18 di Simone Cristicchi. Siamo onoratissimi di avere qui l'autore, il cantante, il cantatore, il cantatore, il compositore, poeta direi alla fine, poeta Simone Cristicchi. Quindi lo accogliamo con un bel applauso. Ereggge da alcuni giorni negli Stati Uniti, dove questo spettacolo debutterà in primavera prossima, se non ho capito male, e che vuole accogliere questo spettacolo che parla di un argomento molto molto delicato della storia italiana, un argomento del quale poco si sa, poco si conosce. Quindi spesso la storia è complicata, non è mai fatta di vincitori e vinti, ma di persone che da entrambi le parti soffrono. E quindi in questo caso è un pezzo di storia italiana che non è stata raccontata neanche tanto nei libri di storia. La conoscono le persone che vengono dall'area e poi così questa vicenda si è svolta, ma era necessario, ovviamente, proprio questo lavoro di divulgazione di una storia poco conosciuta. Io forse smetto di parlare. Perché non sono io che devo dire che cos'è questo spettacolo, chi è, non è, non è, non so se può intervenire. Professor Konrad Eisen-Gitler, non l'ho presentato, mi scuso, è professore all'Università di Toronto, Center of Renaissance and Reformation Studies, ed è un Giuliano Dalmato, una parola che pochi conoscono. chi sono i giuliani d'almati? forse possiamo cominciare da qua a fare questo piano io ho preparato un pochino di presentazione per gli sticchi ma prima di tutto vorrei dare il benvenuto a tutti voi anche da parte del club Giuliano D'almato in dialetto diciamo Giuliano D'almato ma in italiano si dice Giuliano D'almata, proviene dal greco ma noi siamo Giuliano D'almato da parte del club Giuliano D'almato di Toronto che è il più vecchio club di Giuliano D'almati l'associazione di Giuliano D'almati in tutta la nord America fu fondato nel 1968 ed è tuttora molto attivo nella comunità io sono Cornel Eisenbichler e sono il direttore del El Bulleting un piccolo giornaletto di 20 pagine che esce in tre mesi e che porta notizie dalla regione ma anche dalle nostre attività qui a Toronto il club Giuliano D'almato è lieto di ospitare Simone Cristicchi qui a Toronto io dico Toronto infatti si tratta di Woodbridge sarà il mio snoppismo torontino che includo tutto questa è la prima nord americana del suo spettante musical civile un musical che ha riscontrato enorme successo in tutta Italia ma anche oltre confine in Croazia quando è stato presentato a fiume vorrei a questo punto ringraziare di cuore la dottoressa Adriana Fisenna che ci ha ospitato stasera ma che è stata anche una delle grandi forze motrici che hanno sostenuto questo progetto già dall'inizio non solo moralmente ma anche economicamente e adesso personalmente quindi un profondo ringraziamento ad Adriana Fisenna e tutto il suo staff qui all'Istituto Italiano di Cultura di Toronto come dicevo questa è la prima nord americana ma ci auguriamo che non sarà l'ultima si doveva fare a New York ma siamo stati bloccati per ragioni di visti gli americani sono molto burocratici e stava la benedizione di Toronto siamo noi adesso la prima però si farà a New York si spera l'anno prossimo nella primavera del 15 e probabilmente si sarà anche in Sud America perché abbiamo già ricevuto e-mails che ci chiedevano come si fa cosa dobbiamo fare, come si comincia e quindi la macchina è in moto vorrei ringraziare a questo momento anche la persona che ha messo le chiavi in macchina e girato e questo è il mio caro amico corregionale Elijo Klacic è seduto qui in prima fila che è venuto direttamente da New Jersey Presidente dell'Associazione Giuliano D'Amato del New York New Jersey che ha visto due settimane fa cadere il progetto new yorkese ma che ha sostenuto sempre quello torontino e siamo pieni della sua presenza, ci onora tantissimo qui lui con il suo molde qui presente non faccio la biografia di Simone Cristicchi, la sua fama lo precede ovunque dirò solo che è nato a Roma nel 77, io ero già un vecchio uomo, quel tuo anno ha esordito a Crotone nel 2003 dove ha vinto il premio cilindro d'argento come cantautore emergente con la sua canzone Una casa di Rino una canzone che ha dedicato al crotonese Rino Gaetano, uno dei suoi idoli nel mondo della musica la sua carriera comincia più o meno da lì e si rivolta a grandi tappe nel 2005 nel suo Annus Virabilis vince un sacco di premi, tra i più prestigiosi il premio Music Cultura che già si chiamava una volta premio Barre Canati, anche la Targa della Critica per il tuo brano studentessa universitaria e tra i vincitori del premio Giorgio Capper nell'anno del Festival di Teatro Canzone di Via Riccio vince il premio Carosone per la migliore canzone ironica si rivela Artista dell'anno nel Festival Dallo Sciamano allo Sciome vince il premio Nils nel premio Charlotte, il premio May, il premio internazionale l'artileone d'argento di San Marco, il premio della critica di Muschadischi, il premio Lunezzi e così via nel 2007 si presenta al Festival di Sanremo e vince selezionamente con la canzone che era Caterona Rosa nel 2013 cambia rotta e al Teatro Rossetti di Trieste si reinventa lo fa uno spettacolo Magazzino 18 che debutta nell'ottobre dell'anno scorso, undici mesi fa e che domani presenterà qui a Woodbridge Magazzino 18 è uno show che è molto sentito e molto importante per la nostra comunità Giuliano D'Alto come spero lo sarà anche per la comunità italiana che basta si tratta di uno spettacolo che porta in scena un piccolo ma importante aspetto della tragedia che si è abbattuta sulla popolazione italiana dell'Adriatico orientale circa 60-70 anni fa l'esodo, l'esodo di quasi tutta la popolazione che aveva le sue radici in quelle terre già dal tempo degli antichi romani due millenni di vita, lingua, cultura italiana sulle coste orientali dell'Adriatico vennero spazzate via quasi del tutto, ma grazie a Dio non del tutto nel giro di pochi anni, dieci anni la tragedia non consiste non solo nella realtà dei crimini che furono commessi contro la popolazione ortopoda e non solo italiana ma anche croata e slovena o non consiste in quello o nell'esodo per così dire obbligato di quasi tutta la popolazione ma consiste anche nella maniera in cui questi esoli italiani furono accolti in patria e consiste anche nel silenzio ufficiale e generale che si calò come un pesante sipario su questa orribile scena solo alla fine dello scorso secolo, negli anni 90, questo silenzio cominciò a rompersi e alcuni coraggiosi cominciarono a parlarne pubblicamente di questa tragedia una di queste persone fu il giornalista ligure Arrigo Petacco il quale con il suo libro L'esodo, la tragedia negata d'Istia, Dalmazia e Venezia e Giulia nel 1942-1956, che fu pubblicato da Mondadori nel 99 con questo libro Petacco aprì un vero dialogo sulla questione Giuliano D'Alma una cosa che le pubblicazioni precedenti a mano dei Giuliano D'Alma non erano riuscite a fare forse perché erano appunto pubblicazioni a mano dei Giuliano D'Alma e qui avevamo un genovese che lo faceva il fatto che un giornalista ligure avesse preso in mano, penne in mano per narrare dal suo punto di vista, ma in una maniera sentita e a volte anche commovente questa tragedia sofferta dai suoi compatriotti provenienti dalla parte opposta dell'Italia questa cosa aprì un nuovo piano e questo è quello che Simone Cristichi sta facendo adesso con il suo magazzino 18 con il suo musical civile come lui stesso lo ha classificato Cristichi non è un Giuliano D'Alma non discende da Giuliano D'Alma è un romano da Roma nato nell'Urbe nel 77 cioè è nato un'intera generazione dopo queste vicende appunto per queste ragioni Cristichi parla di tutto questo con una voce nuova e presenta la tragedia la tragedia in maniera completamente nuova chi avrebbe mai pensato di cominciare a parlare di questa tragedia prendendo lo spunto dagli oggetti abbandonati da questo popolo di Esule e ritornare tramite questi oggetti abbandonati ritornare ai loro proprietari alle loro storie alla storia con S maiuscola chi avrebbe mai pensato di comporre canzoni su questa tragedia? canzoni in varie chiavi musicali con vari toni musicali con messaggi semplici ma anche profondi la trama di magazzino 18 si gira su un piccolo burocrate romano che viene inviato a Trieste a fare un inventario degli oggetti abbandonati dagli Esule i quali 60 anni fa erano arrivati a Trieste ma poi per varie ragioni non potevano portare questi oggetti con sé nella prossima tappa dell'Esule questi oggetti sono ancora oggi custoditi nel magazzino 18 del vecchio porto di Trieste in questo magazzino 18 entra l'impiegato romano che parla in romanesco e non incontra anima viva incontra centinaia di topi dappertutto e poi tutto un tratto gli si presenta davanti uno spirito lo spirito delle masserizie che fa come il Virgilio di Dante da guida a questo romano che apprende la storia in un viaggio incredibile dell'immaginazione ho detto il mio a questo punto vorrei dare la parola a Simone Cristitti per aprire il dialogo vorrei chiedere come divenne questa idea di parlare dell'Esolo come divenne l'idea degli oggetti come nasce questa magnifica rappresentazione che lui ha composto ha musicato e che presenterà domani e poi dopo vorrei aprire la discussione, la conversazione con il pubblico quindi se voi volete chiedere e domandare facciamo una bella conversazione quindi se posso ti dare la parola non so, sì, sì ti sparmiare un po' la voce allora grazie, grazie a tutti innanzitutto per essere qui e per me è un grande onore riuscire a salire su un palco scenico che si trova dall'altra parte dell'oceano e soprattutto per fare questo spettacolo dal 2006 ho cominciato a occuparmi della memoria proprio nel momento in cui ho sentito che i testimoni stavano scomparendo la voce viva di chi aveva vissuto 60-70 anni fa stava diventando una cosa in una materia preziosa da preservare, da accogliere e da congelare, da salvare ho cominciato con la memoria del manicomio un'istituzione che in Italia non esiste più grazie alla legge basale del 78 e che ci ha consegnato questi enormi padiglioni vuoti questi luoghi abbandonati abitati probabilmente solo da fantasmi in cui ho cominciato ad aggirarmi ricostruendo un po' quella che era la vita e la dinamica di un'istituzione così violenta che annullava completamente l'identità dell'individuo basta pensare solo al fatto che il matto una volta superata la porta all'ingresso del manicomio veniva privato di tutto dai vestiti ai capelli agli occhiali il matto diventava una nullità e questo ho imparato ovviamente girando questo primo documentario si chiamava Dall'altra parte del cancello quindi la mia ricerca era soprattutto sulla memoria ma anche sulla questa forza incredibile che schiaccia l'essere umano che è l'istituzione e molte volte molto spesso il potere poi ho proseguito questa ricerca sulla memoria e poi andando a visitare a riempire altri silenzi con le parole e quelle che sono le miniere l'Italia è stato un paese di miniere e ce ne accorgiamo anche qui dai lottati che troviamo nelle ex miniere abbandonate e dalle storie che sono sepolte in quelle gallerie quello spettacolo canti di miniere vino amore e anarchia ho girato l'Italia insieme a un coro di musica popolare appunto che riproduce e ripropone i vecchi canti dei minatori italiani nella parte di Grosseto della Toscana anche qui un lavoro appunto sulla ricostruzione di un qualcosa che non c'è più che non è una rievocazione ma è una salvaguardia salvare appunto una memoria preziosa come fossero tante piccole prechietre preziose che il minatore va fino in fondo alla galleria a tirar fuori e riportare alla luce in superficie ecco il mio si può chiamare insomma il mio mestiere è molto vicino a quello del minatore in generale e detto questo mi sono poi addentrato in quell'oceano di storie che sono quelle della seconda guerra mondiale partendo da mio nonno mio nonno che fu uno dei pochissimi retusi dalla campagna di Russia del 41-43 fu uno dei pochi a salvarsi della sua campagnia che era composta da circa 150 soldati ne tornarono in 5 mio nonno era uno di quei 5 e quindi ascoltando le sue storie le storie del Natale del 1941 il Natale che lui passò appunto come soldato semplice nella steppa russa ascoltando lui mi è venuto in mente di andare e di partire per un nuovo viaggio andare alla ricerca degli ultimi reduci ancora viventi in Italia che avevano vissuto la seconda guerra mondiale da tanti punti di vista su diversi fronti ovviamente ho raccolto una marea di materiale sebbene appunto i testimoni siano sempre meno quasi dei pezzi da museo per oggi trovare un reddice della guerra ho raccolto tutto questo materiale dicevo in un libro in uno spettacolo che appunto si chiama mia nonna è morta in guerra durante questo tragitto questo viaggio affascinante doloroso e commovente mi trovavo a Trieste e ho cominciato ad ascoltare le prime storie sull'Esodo Trieste ovviamente è una città di confine una città che è stata attraversata anche in maniera molto violenta dalla storia e dalla seconda guerra mondiale in particolare quindi è una città che regala e regala molto da questo punto di vista a chi vuole andare a cercare le storie o per me nel momento in cui ho sentito parlare di questo luogo il magazzino 18 ho cercato in qualsiasi modo di andarlo a visitare il magazzino è chiuso al pubblico non è possibile visitarlo è chiuso proprio con un lucchetto, una catena questa catena, questo lucchetto la chiave la possiedeva soltanto una persona ho cercato il suo numero di telefono sono riuscito a visitarlo in una non mi ricordo se era un ottobre ottobre 2011 sono entrato dentro questo luogo e mi sono trovato di fronte a un museo come lo definisco io un museo suo malgrado un museo che non vorrebbe essere un museo un museo fatto di lenti cassapanche e sedie di cose povere di cose semplici ma anche centinaia di fotografie di bianco e nero facce senza nome che sono state messe appese sulle mareti e sembrano facce che sembrano guardarti e sembrano chiederti quindi quindi un luogo molto suggestivo unico nel suo genere un luogo dove proprio gli oggetti in qualche modo cercano una voce cercano una la possibilità di un racconto ogni singolo oggetto ogni sedia, ogni mobia, ogni banca ha scritto sopra il nome e la provenienza e attraverso questo ho pensato subito che ogni sedia potesse raccontarvi la storia e le vicissitudini attraverso le quali quella sedia era lì stiamo parlando di una delle più gravi tragedie mai accadute in Italia nel 1900 e del prezzo che l'Italia dovette pagare per essere uscita sconfitta dalla seconda guerra mondiale il 10 febbraio del 47 si potrebbe dire l'inizio di questo racconto 10 febbraio del 47 quindi nel dopoguerra l'Italia dovette cedere una parte una sua ragione come risarcimento di guerra alla Yugoslavia ma il prezzo vero fu pagato da chi quelle terre le abitava da millenni come diceva il professore un prezzo altissimo che spinge il prezzo dell'esodo un'intera popolazione nei libri di storia viene chiamato l'esodo degli istriani fiumani in Talmad ma oggi in Italia non c'è pochissimi sanno dove sia l'Istria e stiamo parlando tutto del confine orientale cioè dopo il confine di Trieste quella che oggi attualmente slovena in Croazia e Istria una zona che oggi per gli italiani rappresenta una meta di villeggiatura una zona dove si va a fare il bagno si va a fare la vacanza e probabilmente dove nemmeno si immagina una storia così complessa così dolorosa l'ispirazione quindi posso dire è nata da questo luogo che domani abbiamo cercato di ricostruire sul palco un luogo dove sono gli oggetti a raccontarci la storia ma dove dentro questa storia trovano spazio anche migliaia di storie tutte uguali storie di testimonianze testimonianze di gente che ha dovuto come nel manicomo lasciare tutto e reinventarsi di trovare una nuova identità in qualche modo mi riferisco ovviamente anche a chi agli 80.000 che scelsero di prolungare l'Esodo quindi che andarono via dall'Istria, dalla fiume, dalla Dalmazia che andarono a spargersi un po' in tutto il mondo ovviamente anche qui Nel spettacolo ho cercato di essere il più possibile equilibrato perché questa è una storia che ancora oggi scotta e provoca ustioni ma che ce ne siamo anche accorti purtroppo in Italia perché la politica in qualche modo ha voluto sempre strumentalizzare un po' questa vicenda l'Esodo fu un enorme plebiscito della popolazione italiana dell'Istria e questo un plebiscito è un atto d'accusa se vogliamo nei confronti del regime di stampo comunista del marisciallo Tito ovviamente quindi quando si va a toccare un lato oscuro, una macchia di quello che è stato poi celebrato come un monumento, ovvero la Resistenza rischia a volte di creare delle sacche di persone che non la pensano così ovviamente che cercano di sminuire quello che è accaduto io credo che la vera prova sia la testimonianza appunto di questo che sto vedendo che gli esoli sono sparsi in tutto il mondo, che c'è stata una cacciata da quelle terre molti hanno scelto di scappare ma non di andare via da quella zona pochi hanno scelto di rimanere ma comunque oggi noi dobbiamo avere la forza di rispettare questa gente e il loro dolore prima parlando in un'intervista mi è venuto in mente Schindler, Schindler, Spielberg un film che ha avuto successo mondiale ecco la storia di magazzino 18 e dell'esodo non ha mai avuto una come dire a livello di mass media un impatto così travolgente e così capillare come può essere stato la rappresentazione cinematografica di un film del genere e di un dolore come quello dell'olocausto sarebbe bello che ognuno potesse avere la dignità, riconosciuta la dignità del proprio dolore e per questo io credo che magazzino 18 possa essere un piccolo mattone per in qualche modo esorcizzare questo dolore e farlo conoscere agli altri e farlo conoscere a chi non ho mai sentito parlare posso dire che non avrei mai potuto immaginare un successo simile per uno spettacolo sì che è un girare un po' mettere un coltello in una piaga in qualcosa che è stato nascosto per più di 60 anni dalla politica ci siamo riusciti e ci stiamo riuscendo grazie all'impegno di tanti lo spettacolo ha avuto 35 mila spettatori in Italia e in Croazia e Slovenia con 52 repliche il prossimo anno mi appresto a fare una tournée che si aggira sulle 100 repliche quindi il doppio dell'anno precedente è stato uno degli spettacoli più visti in Italia dell'anno scorso e questo non è tanto una soddisfazione personale come archista ma la soddisfazione di aver fatto qualcosa di importante per un popolo che ha dovuto sopportare per 60 anni questo enorme macigno che è stato il silenzio e l'indifferenza dei propri connazionali questo per me è il magazzino di sotto grazie tante, apro il dialogo all'auditorio se ci sono persone in questa sala che vorrebbero chiedere o dire qualcosa io sono curioso di sapere come ha visto questo incontro con la comunità Giuliano Dalmat che esiste in Italia immagino che New York e Toronto avrà incontrato ben pochi 5 o 6 di noi per adesso domani li incontrerà tantissimi ma com'è stato per lei questo incontro con gli esuli stessi? l'incontro con gli esuli è stato ovviamente molto interessante molto emozionante perché prima di salire sul palco la prima di Trieste che è stata il 22 ottobre ho dovuto comunque interlocuire con loro, intervistarli fargli leggere anche tutto quello che avevo scritto insieme a Jan Bernas che è il tuo autore quindi fargli leggere questo copione e sapere se era prima di tutto rispettoso della loro storia forse adeguato per divulgarla perché il teatro, la musica, la canzone hanno questa grande forza rispetto al libro ed è l'immediatezza del messaggio quello che può fare una canzone è incredibile e io sono partito proprio dalla canzone che in qualche modo chiude lo spettacolo ho parlato quindi con loro mi sono confrontato con loro dopo aver raccolto centinaia di testimonianze ho voluto far leggere anche il copione agli storici perché la storia è una cosa seria e con il teatro deve sposarsi bene in modo che lo spettacolo non debba risultare per il pubblico una conferenza di storia bensì un qualcosa di trascinante qualcosa in cui il pubblico possa immedesimarsi nello spettacolo per questo interpreto diversi personaggi cambiando abito, cambiando voce, cambiando canzoni ed è uno spettacolo che secondo me potrà girare ancora molto a lungo proprio perché ha una formula secondo me adeguata per poter arrivare anche alle giovani generazioni utilizziamo filmati, fotografie, musica perestrali, un coro di bambini e una bellissima scenografia anche quella che è stata ritrovata qui perché lo spettacolo è molto bella, molto arzeccata quindi dicevi del De Chiesoli con loro è nato un rapporto bellissimo così come è nato con le comunità degli italiani dei cosiddetti rimasti quelli che ancora oggi vivono in Istria che sono circa 40.000 per i quali abbiamo fatto delle repliche speciali appunto a Pola, a Fiume, a Rovigno, a Pirano e a Omago e a Puglia è nato un rapporto bellissimo perché nel momento in cui si è scoperchiata questa pentola grazie allo spettacolo mi è arrivata un'ondata di affetto incredibile e ancora oggi continuo a ricevere mail, messaggi da parte di Chiesoli sparsi in tutto il mondo messaggi che mi ringraziano per questo lavoro che io, ripeto, non avrei mai pensato che potesse arrivare a tanto è nato un rapporto di fiducia un rapporto di grande affetto e che dire, nel momento in cui poi riuscirò un giorno perché ci siamo quasi riusciti ad avere da parte di una televisione italiana uno spazio in prima serata per poter fare lo spettacolo allora avrò raggiunto il mio scopo perché ovviamente il teatro è un lavoro certosino un lavoro di grande pazienza il fatto di persone che vengono a vedere quella sera lo spettacolo, la televisione può avere ovviamente un riscontro molto maggiore quindi stiamo lavorando anche in questo senso l'unica cosa che posso dire è che una signora, una bellissima ragazza di 90 anni che mi ha fermato in Trieste mi ha guardato negli occhi, mi ha stretto le mani mi ha detto, adesso posso morire felice perché finalmente qualcuno ha raccontato la mia storia applausi apro al pubblico anche io volevo chiedere qualcosa su proprio l'elaborazione dello spettacolo come è nata l'idea di creare questa figura del burocratere umano ad esempio e di sviluppare poi tutto il resto del racconto Sì, mi ricordo che tutti i giorni facevo il tragetto per arrivare a scuola nel mio liceo che si trova all'Eura in Roma Sud prendevo l'autobus e una delle fermate dell'autobus si fermava di fronte a un cartello in questo cartello c'era scritto Villaggio Giuliano d'Armada che poi ogni città, più o meno ogni città in Italia ha un quartiere Giuliano d'Armada in Roma c'è questo cosiddetto villaggio Giuliano d'Armada io mi fermavo tutti i giorni davanti a questo cartello e mi chiedevo mi chiedevo in cuor mio chi fosse questo signor Giuliano d'Armada se fosse un poeta, un letterario, un filosofo ma non so che io non conoscevo nulla di conseguenza poi dopo tanti anni mi sono andato a ricordare questo episodio e l'ho trasferito nella bocca nel personaggio di Duilio Persichetti che è questo imbranato e ignorante archivista del Ministero degli Interni che non curante di tutta questa storia viene spedito dal Ministero a redigere questo inventario dovevo trovare una chiave di lettura che scusasse anche il fatto che un romano racconti questa storia e quindi ho inventato questo personaggio che diciamo è il lato se vogliamo grottesco, ironico, tragicomico di questa storia in cui tutti quelli che non conoscono la storia si rivedono dovevo trovare proprio il personaggio che incarnasse l'italiano medio che guarda solo la televisione non si interessa di nient'altro forse la partita di calcio e quindi di Magazzino 18 e dell'esodo istriano di prima dell'Armada non sa assolutamente nulla però da questa parte da questo personaggio così ironico il pubblico parte seguendo le sue ricerche in mezzo al magazzino per cui viene a conoscenza gradualmente proprio scattabellando in mezzo a questi faldoni a questi vecchi mobili viene a conoscenza della storia e si trova di fronte a un qualcosa più grande di lui che non conosceva e quindi durante l'arco e lo svolgimento dello spettacolo c'è una sorta di cambiamento si potrebbe dire di catarsi di questo personaggio all'inizio buffo ma che alla fine trova in questa storia un grande messaggio è un po' la funzione di dolcificare una storia amara ecco l'altro personaggio è il spirito delle masserizie come è impidicare quello? ah, lo spirito, si è un dialogo più o meno tra il romano e se stesso tramite lo spirito delle masserizie questo lente non esistente ma entrando in questi luoghi appunto viene in mente il manicomio tutti questi luoghi abbandonati lo stesso magazzino di sotto la prima cosa che mi è venuta in mente questo luogo è abitato da fantasmi e quindi era chiaro che il personaggio che dovesse fare da Cicerone da Vergilio in mezzo a queste cose abbandonate dovesse essere uno spirito un fantasma e quindi ho inventato il personaggio in maniera così una sorta di narratore infatti a lui è delegata tutta la parte storica diciamo il racconto storico della vicenda ed è molto secondo me funziona molto bene questo scontro questo continuo rimando quest'altalena tra la persona nel popolo e invece quella istruita quella che ti dice che spiega che va a spiegare che si addentra dentro la storia e funziona molto bene secondo me questo contrasto molto forte tra i due personaggi che interpreto sempre io e quindi è una sorta di schizofrenia ogni sera e mi trovo a doverli visitare i brandi Per quanto riguarda gli altri personaggi della vicenda le storie chi narra le storie? Le storie vengono soprattutto narrate da lui dallo spirito che in ogni capitolo diciamo di questo spettacolo di questa vicenda cambia entra in un nuovo personaggio ok c'è il personaggio di Domenico per esempio che racconta anche lui uno spirito un morto che racconta le foime anche questo è un capitolo molto controverso ancora oggi che ancora oggi fa discutere oppure il personaggio che mi piace di più dello spettacolo è l'esulemato allora nei manicomio di Trieste l'ho reso famoso da Basaglia sono state rinvenute diverse cartelle cliniche di gente che proveniva da oltre confine che con l'esodo aveva perso tutto aveva perso anche il senno il ben dell'intelletto diciamo così era finita in manicomio e qui appunto c'è un elemento di questo personaggio che mi ricongiunge è il discorso che ho fatto prima quello legato alla propria identità ed è un po' anche quello che racconta quello di cui scrive Primo Levi parlando del campo di concentramento dice provate un uomo a togliere a un uomo i capelli i vestiti e poi gli oggetti e poi gli occhiali e poi i propri amici i propri affetti quell'uomo quell'uomo rischierà di perdere anche se stesso e questa è questo pensiero violento che è anche dietro l'esodo la cosa che ho ritrovato in giro per l'Italia è questo senso fortissimo di appartenenza invece a un popolo e ad una comunità cosa che si sta perdendo completamente purtroppo questo attaccamento alle proprie tradizioni questo parlare in diaretto in pieno nel centro di Roma parlare al fuori in diaretto Istro-Veneto ritrovare la stessa dinamica le stesse sensazioni in altre città d'Italia e quindi la cosa più commovente e più forte è sentire queste comunità che ancora oggi fanno di tutto per preservare la loro tradizione no? ed è un grande insegnamento che dovremmo cogliere secondo me io volevo chiedere la reazione invece dell'italiano meglio cioè portando questo spettacolo fuori dalla triuli per esempio fuori dalla Slovenia e dalla Croazia cioè di luoghi in cui comunque la storia si conosce e ci sono i protagonisti ancora in una storia supersti da fuori proprio in Italia dove di questa vicenda si sa quasi nulla allora diciamo così che io posso percepire dal palcoscenico ma anche quando scendo insomma quello che è successo nel pubblico perché anche lì c'è una sorta di cambiamento interno il momento in cui ti viene proposto un teatro che io chiamerei di rivelazione più che di evocazione viene rivelata una verità che prima non si conosceva e quindi avviene un qualcosa di particolare molto spesso è un senso di vergogna come è stato il mio io ho sentito una forma di grande vergogna per non aver saputo questa storia e la stessa vergogna la provano anche gente che prova il pubblico che viene in teatro magari impugnato da non so dal titolo che sia un capitolo di storia oscuro e poco divulgato quindi questo senso di vergogna si sente le persone vengono a confermarvelo e poi credo una grande emozione nel nel sentire le ultime parole che non voglio però svelare stasera parole che arrivano e allargano il senso di questo spettacolo a tutto il mondo e probabilmente stiamo parlando di un fazzoletto di terra per qualcuno insignificante ma che ha un grandissimo valore un punto nodale nel nostro paese fu ed è stato un crocevia dei popoli una terra mistilingue molti etnica dove le persone si sono incontrate tra loro le popolazioni si sono mescolate tra loro e quindi niente io spero che domani sera arrivi questo grande questo messaggio che abbiamo voluto includere ma soprattutto arrivi nella mia intenzione quello che è un grande omaggio a chi ha dovuto insomma a chi ha dovuto vivere io per fortuna no ma a chi ho dovuto vivere questa vicenda sulla propria bella voglio chiedere a Trieste confina con la Slovenia però i spettacoli sono stati esposti da fiume o la città famosa per l'esodo hai intenzione di fare qualcosa di Slovenia ad esempio come l'Indiana per esempio che può studiare della nostra storia in quella zona ma io caro di Ligio a me piacerebbe molto ovviamente mi auguro che ci sarà la possibilità di incontrare anche il pubblico sloveno che diciamo è la controparte di questa storia come quello provato ci sono popoli che hanno subito ognuno un dolore diverso ognuno pensa che proprio dolore sia più grande dell'altro non credo che sia il giudizio valido questo ognuno ecco perché non credo che possa esistere potrà mai esistere una memoria condivisa su certi fatti storici no? perché ognuno poi punterà il dito contro chi vi ha fatto male e non guarderà mai quelli che sono i propri magazzini della vergogna no? e in Italia ne abbiamo molti in questo senso abbiamo avuto l'opportunità di avere sia a Trieste che a Gorizia un pubblico slovene sono venuti ad ascoltare ed è stato un gesto molto importante così come è stato la replica al fiume dove per la prima volta lo spettacolo ha avuto i sopratitoli in lingua croata questo ha permesso quindi al pubblico croato di poter entrare in teatro ma entrare in questa storia capendo nel significato proprio la traduzione del testo e niente quindi si spera anche di poterlo fare in Slovenia perché ovviamente anche loro hanno avuto il loro esolo anche loro hanno avuto i loro crimini di guerra commessi dagli italiani i cosiddetti italiani brava gente che in questa storia non fanno una gran bella figura diciamo così e viene raccontato anche quello spicchio di storia ancora oggi in cui l'Italia deve fare i modi Simone ha detto che il magazzino 18 è chiuso con una catena a mucche è davvero perché è un posto inaccessibile essendo nel porto vecchio di Trieste però è successo qualcosa di particolare che dopo la presentazione dello spettacolo la gente chiede richiede di poter entrare di poter visitare il magazzino 18 stia portando la gente a Trieste per visitarlo e vederlo e l'IRCI è molto impegnato in questo discorso perché so che ci sono delle incredibili liste d'attesa per poter accedere so anche che la RAI voleva firmare all'interno del magazzino 18 lo spettacolo quindi non so se sia stato fatto e sarebbe un progetto bellissimo ma domanda questa il magazzino 18 salverà il magazzino 18 si spera ma io penso che se fossimo stati in America o in Inghilterra o in Francia quel luogo sarebbe stato ma non da adesso ma da decenni è un monumento nazionale che invece è ancora lì insomma queste masserizie sono preda di tarli di polvere di topi che se li rosicchiano giorno per giorno l'umidità che li imbarca eh sì il primo gesto di apertura in tutti i sensi c'è stato nel senso che dopo lo spettacolo eh hanno aperto le porte chi sono state qualche migliaia di persone che si sono prenotate per andare a vederlo quindi hanno dato una sistemata questo luogo per la prima volta però insomma sarebbe il caso anche che qualcuno si investisse nei soldi per poterlo rendere veramente un museo così come Alice Island il museo dell'immigrazione eh a New York questo deve essere il museo eh dell'esodo il museo dell'esodo anche perché non gli manca nulla per esserlo mancano solo non so due o tre eh pannelli come questo per spiegare il resto te lo raccontano gli oggetti insomma ma Alice Island canadese sarebbe il molo ventuno al porto di Halifax e lì abbiamo fatto il museo dell'immigrazione ma è stato un gruppo di italiani che ha avuto l'idea che ha gestito il progetto tanto che ho in realtà il progetto di tutta l'immigrazione di tutte le geni in Canada forse per il magazzino 18 ci vorrebbe un gruppo di interessati non solo in Italia ma in tutto il mondo che sponsorizzino che abbino che cercano di convincere le autorità municipali regionali federali e statali di portare avanti un progetto simile una Alice Island un molo 18 peer 21 dell'istria della Darmazia Volevo dare il benvenuto a Toronto la signora Rosanna Turchinovic che viene da Trieste a rappresentare l'associazione dei Giuliani nel mondo dei Giuliani nel mondo non dei Giuliani ma dei Giuliani nel mondo e che ha lavorato tantissimo per la realizzazione di questa tournea all'estero dello spettacolo e che appunto è una amica del Canada è una appassionata di Canada torna spesso in Canada e ha forte legame quindi con questa realtà con questa terra dove appunto ci sono persone come il professor Eisenbinker che insomma è qui in seguito altre domande? più che una domanda ha un senso di profonda ammirazione da Romano per una personalità romana che è così sensibile che ha una forte coscienza sociale civica storica che siamo famosi un po' per la nostra indifferenza le grandi problematiche invece trovo questa questa cosa veramente emozionante mi ha un po' da promotore di eccellenze poco conosciuto italiane ho sentito che ci fanno delle tunnex in vari paesi del mondo quindi che si è conosciuta anche al di fuori della comunità perché spesso sono messaggi che ci fanno solo onore e danno prestigio a una generazione di artisti giovani italiani grazie grazie